Titoli forti, destini forti. Titoli deboli, destini deboli. Non c'è altra strada. Ecco, con questa frase voglio riassumere e voglio spiegare anche al volo la frase che ho messo, grossa, nel titolo e la confermo ovviamente. Per me al momento Simen è il migliore centravanti in Europa. Non c'è nessuno che gli si avvicini quest'anno. Ogni palla che tocca è un gol. È clamoroso ma è così. E certo, il gol di oggi non era complicato in sé, anzi era facile perché stava porta vuota sulla linea, ma il gol per me è al 70% dove ti trovi e al 30% il tiro, la giocata che porta al gol. E osi man, se c'è una cosa che ha in maniera proprio sopra sviluppata, è il fiuto, è la posizione, è il posizionamento che ha sempre in campo in tutte le occasioni pericolose. Ecco, oggi comunque nel classico esempio lui è lì sulla linea e non è neanche marcato strettamente su una palla di fatto inattiva perché c'è il cross in mezzo, quel tiro sponda di Kim e arriva osi man. E secondo me neanche Lewandowski, che è il secondo in questa mia classifica personale, si avvicina all'osi man di quest'anno, che non è uno che magari a quei lampi prende... Non è, io ve l'ho detto tante volte, non è come Ibra. Non ha quelle bombe da fuori, a parte qualche raro caso, per esempio contro la Roma all'andata. Lui è uno che comunque però dentro l'area le prende tutte. Anche il gol contro lo Spezia di sette giorni fa ne è proprio l'emblema. Palla alta, campanile, certo Dragoschi non esce e fa una mezza guaglia, ma Osimene svette e la prende lui fra tutti, portiere compreso la prende lui. In area sono tutte quante palle sue. Comunque è un Napoli che vince, che convince, è un Napoli che le vince tutte in tutti i modi possibili. Oggi era un testa-coda, quindi una partita apparentemente abbordabile. La Cremonese ci ha anche provato nel primo tempo, purtroppo con risultati diciamo quasi nulli, perché ha avuto anche una mezza occasione con Basquez intorno al decimo minuto. Però se lì Basquez invece di tirare, se la stoppa, perde tempo, e capisci bene che giocando a Napoli contro il Napoli hai queste occasioni e non le sfrutti, la partita poi diventa complicatissima, anche se in difesa il muro eretto da Ballardini stava anche pagando. Però poi Varaschelia al ventiduesimo della ventiduesima giornata nel giorno del suo ventiduesimo compleanno e hanno col numero 22, no, questo no, però comunque si inventa un gran gol perché da posizione defilata si accentra, finta il passaggio a rimorchio, la mette sul secondo palo, quindi è un gollaso alla Varaschelia, fa gol e lì la partita cambia proprio registro. Poi comunque il Napoli se la gestisce, se la comanda e la vince abbastanza anche agevolmente. Con il gol nel secondo tempo di Osimena e con il sigillo finale anche di Elmas, subentrato, che dimostra, come vi ho detto, che il Napoli gli levi un ingranaggio, gliene levi anche due e va alla grande. L'unica volta che hai levato tutti gli ingranaggi e hai cambiato macchina, hai perso contro la Cremonese ed è stata una sconfitta pesante perché sì, anche la sconfitta contro l'Inter, anche la sconfitta contro il Liverpool, sono sconfitte ma che alla fine sulla stagione hanno inciso relativamente, o meglio, l'Inter ha inciso poco e non credo che inciderà, salvo suicidi, ma in quel caso sarà qualcos'altro che avrà inciso perché se poi il Napoli perde 20 punti qua, 13 punti di vantaggio, non è quella sconfitta sicuramente che ha cambiato gli equilibri. Con il Liverpool non si può dire se ha influito sulla stagione ma sicuramente il girone è stato passato da primi lo stesso senza alcun problema. Poi che cos'altro? Vi ho citato Kvaraskelia che fa un gollasso, la Kvaraskelia e vi confermo quanto detto, nonostante gli insulti presi qualche mese fa, ovvero che qui c'è Leao e qui c'è Kvaraskelia. Kvaraskelia è superiore a Leao ragazzi, Kvaraskelia è un esterno completo ed è un esterno soprattutto costante nel rendimento, certo è vero, l'abbiamo visto un anno, ma per un georgiano che non ha mai giocato ad alti livelli in Europa perché il massimo che si è fatto è il campionato prima del Napoli, il campionato russo che per carità in confronto al campionato georgiano giocava a Batumi se non sbaglio, è tanta roba però comunque in Europa è un livello abbastanza basso. Ecco, arriva a Napoli con alte aspettative e subito diciamo ammazza il campionato, quindi uno così io se mi proponessero lo scambio Kvaraskelia-Leao e io avessi Kvaraskelia, gli direi a Leao, al Milan anzi o comunque a chi ha Leao, dattelo qua con tutto il rispetto, Leao è forte ma Kvaraskelia al momento è superiore. E chiudendo che cosa vi posso dire? Che comunque il Napoli questo scudetto ovviamente ce l'ha in mano ma credo sia abbastanza scontato e che la Cremonese continua a non vincere. Oggi comunque c'era poca storia, non era questa sicuramente la partita da vincere, andare ad espugnare il San Paolo, il Maradona, era abbastanza diciamo complicato, difficile da immaginare però è una squadra che non fa mai tre punti e se non fai mai tre punti ormai sei spacciato. Ora, la cura Ballardini può ancora funzionare? Sì, la Salernitana si è svegliata intorno a marzo e comunque si è salvata, quindi tutto è possibile però, certo, realisticamente nonostante non siano neanche male perché secondo me stanno due spanne sopra il Verona come gioco, alla fine i punti non li prendono mai e oserei dire anche alla Samp. Però chiusa questa parentesi, chiudo anzi dicendovi un'ultima cosa che per me il Verona si salva e la Samp no. Però adesso è veramente tutto, iscrivetevi, lasciate tanti like qui sotto e commentate scrivendo anche la vostra opinione. Ci vediamo presto, ciao!